Corrado Vismara, Larry Smith Italia. L'occasione del convegno Popeye è per parlare un po' del rapporto tra il marketing del centro commerciale e il marketing delle aziende che sono ospitate all'interno del centro commerciale. È un tema che evidentemente permette di affrontare grandi sinergie tra i progetti di comunicazione che esistono su questi due piani e anche delle zone ancora d'ombra poco risolte. Per cui vediamo questa come un'occasione per fare un po' di chiarezza da parte nostra come gestori delle gallerie con altri rappresentanti del mondo retail.